Buonasera. Di recente ci siamo occupati dei giovani, potrei anche dire del problema giovani, cercando di capire che cosa sta succedendo alle nuove generazioni. Stasera andiamo su un tema parallelo altrettanto importante che è quello delle famiglie. Guardate la fotografia alle mie spalle, cerchiamo di leggerla insieme. Che cosa vediamo? Vediamo un capofamiglia con tanto di sciabola seduto al centro, accanto a lui la moglie e tutto intorno cinque figli, che è già un messaggio che vale rispetto alla curva demografica di oggi. Di questi cinque figli vorrei attirare la vostra attenzione sull'ultimo a sinistra, quello vestito di bianco che ha giacca, cravatta e un paio di pantaloni corti che francamente sono un po' fuori posto, diciamo, rispetto al resto dell'abbigliamento. Prima di dire chi è, vi faccio notare un'altra particolarità. Nessuno di loro sorride, cioè non è ancora arrivato, siamo negli anni intorno alla Prima Guerra Mondiale, non è ancora arrivato l'obbligo del cheese, smile, quella roba là. Loro fissano l'obiettivo consapevoli della solennità del momento, della loro dignità borghese di dover guardare l'obiettivo con uno sguardo serio. Chi è quel giovane, l'ultimo a sinistra? Si chiamava Corrado Augas, diventò pilota dell'aeronautica, morì in un incidente, in un'acrobazia aerea negli anni venti. Perché faccio vedere questa foto, che ha un significato affettivo per me ovviamente, ma credo anche un significato generale? Perché quella famiglia così rappresentata era allora un modello. La domanda che stasera ci poniamo è quella famiglia è ancora un modello? E se non è un modello, qual è oggi? Un modello di famiglia. Ecco, abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Umberto Calimberti. Benvenuto, anzi bentornato in questo programma. Grazie. A parlare per i nostri ascoltatori di un problema che è sicuramente uno dei problemi delle società contemporanee in Italia, ma non solo in Italia. Lei ha definito in una recente dichiarazione testuale, leggo, la famiglia in questo momento è un disastro. Frase apocalittica. Perché è un disastro? Lo è insieme alla scuola, sono due disastri. La famiglia è un disastro perché non c'è attenzione all'educazione dei ragazzi. Se noi consideriamo, per esempio, come ci racconta Freud, che nei primi sei anni di vita i bambini realizzano definitivamente, ci sono degli avverbi importanti che noi trattiamo invece come reversibili, no, definitivamente, le mappe cognitive e le mappe emotive. Mappe cognitive vuol dire il taglio che diamo alle nostre conoscenze. Le mappe emotive sono la risonanza emotiva che provengono dagli stimoli del mondo. Queste formazioni si determinano nei primi sei anni di vita. Le neuroscienze dicono nei primi tre anni di vita, sono più severe. Come li passano i bambini i primi tre anni di vita? Come li passano? Come capita? Un po' di asilo, un po' di nido, un po' di babysitter, un po' di televisione, quando si ha 4-5 anni anche un po' di giochini sul telefonino. Come capita? I bambini fanno vedere alla mamma quando torna dal lavoro, e qui non sto incolpando le mamme perché una famiglia funziona se lavorano in due, le loro mappe cognitive ed affettive. In che modo? Facendo vedere i disegni che hanno fatto, gli sgorbi che hanno disegnato, i colori che hanno usato. La mamma cosa dice? Sì, adesso non ho tempo, devo farti a mangiare, te li guardo domani. Domani vuol dire mai. E così il bambino riceve una prima ferita alla costruzione della propria identità. E qui mettiamocela bene in mente, l'identità non ce l'abbiamo per natura, ce l'abbiamo come dono sociale. La nostra identità è il frutto dei riconoscimenti e dei misconoscimenti che riceviamo nella vita. Questo è convincente. Tra l'altro lei dicendo questo nega che l'identità dipenda, come alcune teorie genetiche sostenevano, dipenda dall'eredità, cioè dai geni ereditati dai predecessori, invece no, lei dice la maggior parte dell'identità si costruisce nei rapporti dei primi tre anni di vita, che è una cosa, questa teoria è convincente. Non solo, ma... E quindi l'identità è un dono sociale, punto a capo. Questo va detto e chiarito per bene. Se una mamma dice al suo bambino sei bravo, poi glielo dice la maestra, c'è la possibilità che cresca con un'identità positiva. Se la mamma gli dice sei un cretino, e poi lo dice anche la maestra, c'è la possibilità che cresca con un'identità negativa. L'esempio c'è da vergognarsi per la sua semplicità, ma per far capire, bisogna stare attenti a parlare con i bambini. E anche gli adulti, quando sono al lavoro, se hanno un incremento di carriera, hanno un aumento della loro identità. hanno, gli fanno il mobbing, hanno una dimotivazione, una depressione, talvolta anche il gesto estremo. Tutto quello che dobbiamo capire è che l'identità è un dono sociale. Questi greci lo sapevano perfettamente. Aristotele dice, se uno entra in una comunità e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio, non è un uomo. I cristiani invece hanno stabilito il primato dell'individuo rispetto alla società, perché la cosa più importante è salvare l'anima. E l'anima è un fattore individuale. E la società viene dopo. Ammesso che lei abbia ragione su tutta la linea, ammettiamo. La domanda che segue è, ma quando ai tempi di quella famiglia, 1918, che abbiamo visto prima, le cose andavano forse meglio in un'Italia più povera, più repressiva, più angusta di orizzonti? No, non andavano meglio, perché sembra qualcosa di organico, di funzionare alla società, la famiglia è quella cosa lì, madre, padre, figli, tutti quanti impostati nell'ordine del sacrificio, della realizzazione di sé, ma all'interno di una società che prevedeva sostanzialmente il dovere e il sacrificio. Veniamo però ai nostri giorni. Guardiamo insieme questo documento dove vediamo Mussolini in un comizio a Lecce nel 1934 che parla, vaga più o meno, di quello di cui stiamo parlando noi. E chiuderò! E chiuderò! E chiuderò! rivolgere un elogio alla gente di Puglia perché è feconda e crede coi fatti nell'unico primato che veramente conta nella vicenda e nella lotta dei popoli il primato dei figli, il primato della vita. poiché solo la gioventù guarda con occhi impassibili e freddi tutte le difficoltà che l'avvenire pone innanzi alla marcia di un popolo che vuole ascendere agli orizzonti del benessere e della grandezza. Adesso sarebbe facile mettere in caricatura questo discorso noi non lo faremo. Io però la invito ad analizzare con la dovuta freddezza sociologica quello che il Duce disse l'unico primato è il primato dei figli cioè il bonum prolis quello che voi chiamate il bene della prole aveva ragione? No non aveva ragione innanzitutto perché impoveriva l'orizzonte della sessualità la sessualità non è solo procreazione è anche piacere e questo impoverimento del destinare la sessualità unicamente alla procreazione a lui tornava utile perché aveva bisogno di militari aveva bisogno di soldati aveva bisogno di carne da cannone la mia stessa famiglia composta da dieci figli non era fascista e però aveva seguito la cultura del tempo ogni volta che una donna rimane incinta genera e questa era la cultura dell'epoca fascista c'era un'incentivazione a questa anzi si prendevano diecimila lire per ogni figlio che nasceva qualcosa che somiglia alla mancia che adesso la Meroni vuole dare a chi fa altro al suo figlio ma non è così che si rimedia la denatalità perché come si incrementa la denatalità come si rovescia la curva la rovescia si risolve in maniera tale che i ragazzi possano per ragioni economiche uscire dalla famiglia trovare un lavoro fare un mutuo per la loro casa hanno desiderio di fare i figli ma non lo possono fare e noi abbiamo creato una distanza tra un momento in cui gli organi sessuali sono pronti per la generazione 14-15 anni a il momento in cui si effettua questa generazione magari con la procreazione artificiale eterologa è omologo 30-35 anni Jacques Maritain che è un filosofo cattolico francese ha scritto a Paolo VI che la nostra civiltà ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto che sono i giovani e la distanza che c'è tra la fertilità organica e la possibilità di procurare 20 anni è troppo allora bisogna creare le condizioni economiche perché i figli possono uscire dalle famiglie vedo nella sua risposta un orientamento marxista lei scarica tutto forse mi sbaglio ma insomma la sostanza è quella tutto sull'economia la mia idea è un po' diversa io non credo certo che hanno un peso per carità l'orario di lavoro il fatto che bisogna guadagnare in due nella coppia per assicurare con un doppio stipendio un certo livello di benessere quale è quello che la società ormai richiede perché si possa comprare la macchina andare in vacanza tutto questo ma non credo che dipenda solo da questo cioè la coppia moderna io lo vedo credo di vederlo in tanti giovani che ho un modo di accostare è distratta anche da altre cose ci sono richiami di divertimento che chiamano da un'altra parte c'è la responsabilità di mettere al mondo un figlio e di allevarlo e di accudirlo e di dedicargli tempo attenzione che ormai viene visto come un carico perché devo stare lì a pulire i pannolini quando posso andare al cinema con volgarizzo adesso questo ha un peso la nostra civiltà impone un uso del tempo diverso dove la cura della famiglia e dei figli è diventata meno importante più pesante lei condivide? sono d'accordo perché noi siamo passati dalla società dalla disciplina che c'era fino al 1968 alla società dell'efficienza della performance pinta e tutti quanti anche i giovani che lavorano sono condizionati dai loro apparati dove loro si devono limitare a compiere le azioni prescritte e descritte dagli apparati secondo i valori dell'efficienza della produttività della velocizzazione del tempo che ha già superato la nostra capacità temporale e psichica per cui sono stressati e allora l'orizzonte del piacere che vuol dire la velocizzazione del tempo la modalità non parli come quelli no nell'età della tecnica la velocità temporale che ci impone la tecnica ha superato la capacità psichica della nostra temporalità ah sì per cui non so in Italia che siamo un paese dove c'è il sole dove si mangia bene dove si parla molto se no bisogna andare a parlare a pagamento dello psicanalista cosa succede che il 55% usa psicofarmaci e a chi non bastano i psicofarmaci un po' di cocaina a Milano hanno fatto dei prelievi nel naviglio e ne hanno tirati fuori in Italia go go quindi è gente che sta male che è stressata e allora cosa fa oltre alla dimensione del piacere che è la modalità con cui oggi si vive c'è anche il desiderio di trovare rilassamento a questo stress continuo e quindi in questa dimensione è chiaro che mettere al mondo un figlio è inevitabilmente un sacrificio anzi io torno a quella considerazione quello che noi non abbiamo ancora capito è che c'è un conflitto potentissimo dentro di noi i greci l'avano capito tra le esigenze della specie e le esigenze dell'individuo prendiamo per esempio una donna che vuole mettere al mondo di un figlio deve assistere alla deformazione del suo corpo che non è la cosa più bella del mondo al trauma della nascita che non è solo del nascitturo alla soppressione del suo tempo e del suo sonno perché la creatura vuole un'assistenza continua alla sospensione oppure la perdita del lavoro che vuol dire anche perdita della socializzazione dal punto di vista dell'economia del suo io è una perdita secca dal punto di vista della specie è un guadagno totale sì è una perdita secca compensata dall'onda di l'onda enorme immensa di affetto che la natura dà alla donna nei confronti del pargolo che stringe tra le braccia e che quando accade al latta nutre del suo stesso latte e questo compensa professore Gallimberti lei mi sembra un po' arido le devo dire la verità quella è una cosa io vedo alle volte ho visto la luce negli occhi di una giovane mamma col bebè accudendolo nelle funzioni più umili cambiandogli la biancheria facendogli il bagnetto quella roba là la luce nello sguardo era una luce di felicità sì io all'amore materno non credo al cento per cento non solo perché ci sono mamme che talvolta uccidono i loro figli no quella è l'eccezione ecco ma io penso che l'amore materno sia come tutti quanti i sentimenti connesso anche a un certo odio materno quando una mamma prende in braccio il suo bambino e in forma affettiva abbracciandoli gli dice ti ammazzerei non è una cosa tanto carina oppure ti mangerei non è una cosa che sono quelle piccole vie di fuga in cui l'odio materno fa compagnia all'amore materno è sempre ambivalente l'amore delle madre sì io mi permetto senza nessuna preparazione dottrinale proprio solo con l'uso del buon senso di dissentire la riporto con questo filmato a un quadretto familiare anni settanta abbiamo visto il 1918 abbiamo visto la famiglia fascista descritta e raccomandata da Mussolini a Lecce vediamo questo quadretto che ci avvicina ai nostri giorni signora secondo lei chi comanda in questa casa? nessuno perché in qualsiasi decisione la prendiamo insieme al mio marito e anche ai figli perché oggi sono grandi e intervengono in qualsiasi decisione dobbiamo prendere beh diciamo che comanda papà comando do le direttive intendiamoci però sempre in collaborazione con mia moglie e anche con i figli papà chiede mamma chiedono la nostra collaborazione il nostro intervento però non è che sia determinante anzi c'è la ragazza che sta battendo per poter alla sera avere un po' di libertà uscire dato che poi è fidanzata e allora ci sono questi contrasti vorrei avere un po' più di libertà nell'uscire e in tante altre cose mentre mio padre no tutto casa e famiglia siccome io il concetto famiglia l'ho sempre tenuto in una certa considerazione nella vita di un uomo quindi in un certo momento cerco di riprodurre migliore dei modi ecco ognuno cerca di riprodurre il concetto di famiglia nel quale è stato allevato ma è contraddetto dai tempi che nello spazio di una generazione sono cambiati certo grazie all'emancipazione delle donne perché le rivoluzioni sociali avvengono sempre attraverso l'emancipazione femminile anche in Iran il sistema crollerà solo se le donne riusciranno ad arrivare alla loro emancipazione è sempre stato così la società non cambia per decreti non cambia per ordini per leggi cambia per emancipazione del mondo femminile che è sempre stato subordinato a quello maschile qual è quella tragedia greca dove c'è lo sciopero delle donne perché gli uomini smettano di fare la guerra sì so che c'è non me la ricordo devo dire però questa figura della dominanza maschile sarà un percorso ancora molto difficile perché è dalle notte dei tempi pensiamo una cosa Bradislav Malinowski un antropologo che all'inizio del novecento va nelle isole di Trobriand dove si riteneva che i figli nascessero dal corpo delle donne senza contributo maschile nella generazione e appena nati questi figli Malinowski interroga le madri e dice a chi assomiglia tuo figlio la risposta indiscussa delle madri al padre di cui non si conosceva neanche chi fosse perché non aveva nessun contributo fisiologico nella procreazione stesso concetto ce l'abbiamo anche in Aristotele che non era proprio un primitivo il quale dice che la donna fornisce la materia maschio la forma ma anche il cristianesimo non è immune da questa dimensione la madonna fornisce la materia e Gesù di sé dice io e il padre siamo una cosa sola quindi prima che si smonti questa figura della dominanza maschile ci vorranno ancora tantissimo tempo si guardi proprio perché io ho l'età che ho devo dire che ho assistito dal punto di vista parlo dal punto di vista sociologico non epocale e ho assistito a dei cambiamenti in Italia importantissimi notevolissimi oggi 2024 nulla quasi nulla assomiglia a quella che era il rapporto e l'importanza alla collocazione sociale di una donna nel 1950 il che non vuol dire che il percorso siamo arrivati al traguardo il percorso è finito no vuol dire solo che molte cose sono cambiate premessa alla possibilità che altre molte altre cambieranno questo sì parto sempre però dall'emancipazione dei costumi sessuali femminili quando io frequentavo nel 1960 l'università cattolica le ragazze dovevano venire a lezione con una punica nera fino ai piedi ed era loro proibito con dei cartelli di sedersi sui muretti perché c'era la possibilità che si vedessero le caviglie 1960 adesso invece mi pare che tutti vadano come vogliono alle lezioni l'emancipazione femminile naturalmente mette anche in crisi la figura del maschio perché il maschio aveva percepito se stesso come predatore adesso invece è oggetto di un'incertezza di ruolo e questo è molto positivo perché indebolisce finalmente questa figura maschile che quando però è troppo indebolita passa la violenza cioè i violenti sono persone deboli che per rafforzare se stessi usano gesti violenti il bullo non è un forte è un debole che per dare a sé un'immagine di forza attacca il debole veniamo ai nostri giorni in questa specie di cammino che stiamo facendo guardiamo insieme un filmato dell'attuale ministro della pubblica istruzione o comunque si chiami professor Valditara ha detto quello che ora vediamo la sinistra ha fatto ostruzionismo sul voto di condotta e sui lavori socialmente utili per loro chi prende a pugno un insegnante chi bullizza un compagno o chi devasta una scuola non dovrebbe essere punito perché la punizione sarebbe autoritaria e repressiva sono fuori dalla realtà chi rompe paga la sinistra non vuole restituire autorevolezza ai docenti perché detesta il principio di autorità che è fondamentale in ogni stato democratico allora lei è un professore immagino che il richiamo all'autorevolezza che deve circondare il docente la trovi d'accordo no perché sempre no perché l'autorevolezza deriva dalla capacità carismatica del professore io non ho nessun problema se un professore mi plagio una classe ho molti problemi se me la demotiva e può andare avanti a demotivarla fino a che non va in pensione quindi per 40 anni questi sono i veri guai della scuola secondo quando le ha fatto l'anteprima in cui ha mostrato la fotografia della sua famiglia ha osservato giustamente che nessuno sorride quindi c'era anche della tristezza lì non solo una serietà di comportamento c'era anche della tristezza sicuramente loro hanno paura della gioia dei ragazzi loro voglio dire questo governo ha paura della gioia dei ragazzi ma soprattutto sono anche stufo di sentire questi slogan in cui è così facile chi rompe paga eccetera quello parlava il ministro parlava in un comizio quindi doveva usare un tono da comizio politico che sappiamo essere un'oratoria di livello non particolarmente alto però santo cielo è possibile che un ministro dell'istruzione debba dire degli slogan così elementari chi rompe paga ma non si dice un ministro dell'istruzione non può dirla deve esprimere quel concetto ma non in maniera così triviale oppure come quando non so se ricorda quando era ministro Luigi Berlinguer il fratello di Enrico non confondiamoli una volta eravamo in televisione io e lui io ho chiesto a Luigi Berlinguer ma scusi lei ha degli edifici grandiosi in tutta Italia perché li chiude alla una teniamoli aperti anche al pomeriggio così almeno la gente può andare allora non c'erano i computer adesso ci sono potrebbe andare con i computer il teatro la musica al limite a fare l'amore meglio a scuola che sotto i ponti e lui mi fa e chi mi paga i bidelli giusto chi mi paga i bidelli ma nelle scuole superiori sono necessari i bidelli i ragazzi non possono tenere in ordine la loro aula non possono impiancare una volta all'anno non sono in grado di tenere proprio ordine là dove vivono e passano sei ore al giorno e così imparerebbero a sentire anche la responsabilità del luogo in cui sono e magari comincerebbero anche a tenere in ordine la cosiddetta cameretta a casa che la mamma gli fa il letto cioè che l'educazione non passa attraverso queste forme elementari di cura di sede del proprio ambiente nei paesi nordici è così le aule e le scuole sono tenute in ordine dagli studenti nelle scuole superiori così si potrebbe fare anche in Italia perché no allora sì non è tanto chi rompe paga ma al contrario abbi cura del luogo in cui vivi sembrano sogni lo conosce Sandro Veronesi uno dei nostri migliori scrittori Settembre Nero noi lo abbiamo interrogato gli abbiamo chiesto un parere sull'argomento di cui stiamo parlando e lui ci ha risposto come vediamo la famiglia mia di provenienza è una bella famiglia italiana del boom economico degli anni 60 padre e madre due figli con dei ruoli molto definiti che tutti abbiamo rispettato nel senso che a quel tempo insomma se un adolescente usciva di casa alle due e mezzo diceva vado a studiare e poi tornava alle otto di sera non c'era modo di controllare se era veramente andato a studiare perché non c'era la geolocalizzazione non c'era e quindi stava all'onestà e alle motivazioni che uno aveva di dire o no la verità però ci siamo tutti siamo rispettati loro genitori con noi e noi con loro salvo però che a un certo punto noi vivevamo a Prato che è una cittadina di provincia all'epoca molto ricca però proprio per questo la cultura poca e quindi prima mio fratello che era più giovane e poi io se ne siamo andati proprio via ciao e questo non succedeva alle famiglie omoliche alla nostra i figli restavano spesso facevano portavano avanti il lavoro dei genitori lì era quasi sempre industria tessile ma il mio padre era un professionista un ingegnere e ci contava ecco il mondo in cui loro hanno reagito a questa cosa mi ha veramente sorpreso e mi ha fatto capire che è stato un privilegio quella famiglia lì perché adesso che sono padre quando mi distacco dai figli so cosa si prova Settembre Nero è un romanzo che già dalla prima pagina dice che cos'è dice di un passaggio dall'infanzia all'adolescenza del protagonista questo ragazzino Gigio vive a Vinci che è una piccola cittadina un paese di campagna durante un'estate appunto nel 72 lui sviluppa per la prima volta dei germogli propri grazie alle cose che erano a disposizione allora e che non c'erano mai state la cultura giovanile l'inus i fumetti la musica però poi diversamente da quello che hanno fatto con me questi genitori che li avevano questi due fratelli anche lì una sorella e un fratello accuditi e protetti poi si trasformano per problemi da adulti nella causa di una loro pesante infelicità la parabola è compresa tra queste due definizioni di genitori che lui dà nella prima pagina prima sono la ragione della sua infanzia felice e poi sono i responsabili della sua infelicità sono le stesse persone ed è una dinamica che è comune nelle famiglie questo libro si chiama Settembre Nero perché il ragazzino di 12 anni viene raggiunto da un fatto epocale cioè l'assalto dei terroristi di Settembre Nero al villaggio olimpico nelle Olimpiadi del 72 poi parla di un altro caso il caso Lavorini che scosse l'Italia tre anni prima dell'estate che è raccontata qui perché questo ragazzino di Viareggio fu rapito e ucciso però non era un continuo come adesso adesso è un continuo privato e pubblico la televisione i social i messaggi privati questi ragazzi sono bombardati di dolore e non è facile gestirlo il proprio e l'altruismo per contro hanno molte meno vie di fuga perché come dicevo prima un ragazzo allora poteva uscire di casa e sparire e non farsi trovare più adesso no adesso molti sono anche di per sé piuttosto inibiti al fare le cose ma sanno che se fai seghe a scuola lo viene a sapere la tua mamma prima di te perché c'è l'app cioè il fatto di allontanarsi magari dal dolore che produce la tua famiglia è molto più difficile adesso ora a me non mi sembra di vedere ragazzi che pensano di scappare perché pensano che non potranno scappare fine che dovunque vadano anche disperatamente verranno trovati e ricordati dietro sono sono d'accordo solo in parte anche con Veronesi questo libro lui è un grande narratore basta leggo l'attacco per cominciare a raccontarvi questa storia devo parlare dei miei genitori a quel tempo erano i custodi della mia serenità e questo significa che erano dei bravi genitori è un attacco molto bello però non sono d'accordo sul fatto che i ragazzini non vogliono scappare certo ci sono quelli che si chiamano tecnicamente i bamboccioni che restano a casa sul divano a non fare niente o facendo finta di fare qualcosa ma noi abbiamo mezzo milione di ragazzi e ragazze che sono andati all'estero negli ultimi anni dall'Italia a cercare e noi sappiamo che trovare un lavoro all'estero si trova ma che la tua condizione di immigrato perché di questo si tratta anche all'interno degli confini dell'Unione Europea lasciando perdere la Gran Bretagna è una condizione più disagevole di quanto sia in Italia quindi sono e non sono d'accordo con quello che dice Veronese sì effettivamente oggi il numero di giovani che se ne vanno all'estero hanno già superato gli immigrati che vengono da noi su questo magari varrebbe la pena di fare qualche riflessione anch'io ho passato un anno intero in Germania ho fatto l'operaio perché in casa mia non c'erano soldi per comprare libri e i libri li sono fatti dormivo in una galera minorile che si chiamava Warwick Zain perché non si pagava tanto si pagava quasi niente ma non era eroismo era la cultura dell'epoca vuoi raggiungere una meta dati da fare e quello che è venuto meno oggi è questo che cosa faccio per raggiungere la meta ci sono possibilità per raggiungere la meta in cui mi si indica anche il percorso penso che questo è diventato il vuoto tra il mio desiderio e la sua realizzazione allora invece era così non era eroismo lo ripeto quello di andare a lavorare in Germania se mi servono i soldi vado là dove me li danno infatti in una mattina tu trovavi tre offerte di lavoro e prendevi quella più conveniente ho fatto l'operaio ma non era niente disdicevole ma era normale perché non c'erano i mezzi se vuoi raggiungere lo scopo devi darti da fare oggi non c'è più questa cultura del sacrificio quasi che tu hai diritto perché ti sei lavorato hai diritto no Chiara Saraceno che è una sociologa ferrata su tante cose tra le quali il tema della famiglia ha risposto alle nostre domande così una cosa interessante è che quando nelle interviste si chiede alle persone qual è l'istituzione più importante la cosa più importante o di cui ci si fida di più ai primi posti c'è sempre la famiglia a volte proprio al primo posto quindi c'è ancora un bisogno un senso che la famiglia è un luogo di protezione anche che offre sicurezza se non ci fossero famiglie capaci di forte solidarietà anche al proprio interno sarebbe come dire molte cose crollerebbero semmai il problema è che spesso vengono lasciate molto sole quindi considerate un po' autarchiche autoreferenziali molti genitori possono sentirsi insicuri rispetto a che cosa trasmettere che cosa è utile che cosa è buono di fronte a un mondo che continua a cambiare e anche le regole sembrano cambiare o in cui non è chiaro esattamente la direzione da prendere e quindi magari si ritirano come dire pensano più all'oggi alla quotidianità piuttosto che offrire un orizzonte di possibilità buttare tutto sulle famiglie e sui genitori in particolare la capacità e la responsabilità di guidare sostenere i propri figli nella navigazione in un mondo di cui si sono un po' perse le mappe mi sembra un po' anche esagerato ci siamo sì ci siamo però dobbiamo considerare che nei primi dodici anni di vita sia nei confronti dei genitori e reciprocamente i genitori nei confronti dei figli un amore che si chiama amore incondizionato il bambino conosce solo quel tipo d'amore lì si affida solamente a quello i genitori per lui non tutti sarebbero disposti ad andare nel fuoco in cambio del figlio amore incondizionato come compare la sessualità a 13-14 anni si abbandona questo amore incondizionato per l'amore condizionato che è quello con i propri coetanei che a differenza del primo è un amore dove c'è un reciproco vantaggio perché altrimenti non sarebbe un amore condizionato dai reciproci vantaggi i ragazzi per emanciparsi devono usare della forza perché devono staccarsi dall'unico amore incondizionato che hanno conosciuto quindi ogni tanto sbattono anche la porta ogni tanto dicono anche delle brutte parole che sono un tentativo di darsi forza per riuscire dall'amore incondizionato che hanno vissuto fino adesso e poi è chiaro che della famiglia noi abbiamo sempre un punto di riferimento certo quello che impari da piccoli ce l'ha insegnato Freud ti resta tutta la vita nel bene o nel male senta prima abbiamo detto le deludenti parole del ministro Valditara c'è uno slogan che questi rappresentanti della destra a cominciare dalla presidente del consiglio signora Meloni o dal generale Vannacci ripetono come un mantra e cioè i canoni ai quali non solo una società nel suo complesso ma tutti gli individui che di questa società danno forma dovrebbero fare proprio Dio Patria Famiglia Dio Patria Famiglia ora la parola famiglia inserita in quel trinomio diventa un po' una cosa fuori dal mondo perché Dio sappiamo che ognuno se lo rappresenta come gli pare la Patria è un concetto che va tenuto a bada perché può diventare una cosa pericolosa e la famiglia di conseguenza Sì tenendo conto a parte che loro dicono queste parole famiglia poi dopo molto spesso hanno delle famiglie disastrate e questo non è un buon esempio se gli esempi hanno ancora un certo valore e in secondo luogo ormai le famiglie sono in una fase evolutiva così rapida e così indefinita nel progetto finale che se consideriamo che a Milano in una classe ci sono 15 bambini che hanno i loro genitori e 15 bambini che invece di due genitori ne hanno quattro e quindi devono andare da una parte e dall'altra a fare i viaggiatori dei genitori beh c'è questa trasformazione questa trasformazione c'è basta non è inutile fare la guerra contro la realtà ecco quella è la cosa quella è la frase è inutile fare appugni col presente sì per quanto poi riguarda il concetto di Patria guardate che il concetto di Patria è un concetto molto pericoloso perché è l'emblema del sovranismo ma che cosa succede che se noi vogliamo salvare la terra nostra vera patria che viene prima della patria nativa dobbiamo superare i sovranismi è necessario che gli stati cedano una parte della loro sovranità ad entità superiori come a nostro tempo abbiamo ceduto una parte della nostra libertà personale allo Stato che la amministra in maniera senza passioni e insomma finché non succeda questo quindi Patria e sovranismo sono concetti pericolosi tenendo conto del fatto che il mercato Kant diceva vogliamo la pace universale dobbiamo eliminare gli stati se non è una cosa assurda ma il mercato li ha già superati gli stati le multinazionali sono transnazionali la tecnica li ha già superati gli stati non è che un'invenzione che nasce in America si ferma là e non li possiamo superare anche nella forma della fraternità di una cultura cosmopolita di cui la nozione di patria è la massima antitesi vediamo questo rinfreschiamoci la memoria come si suol dire sulla nostra presidente del consiglio Giorgia Meloni sì alla famiglia natural no allo slobi LGBT sì all'identità sessual no no a la ideologia del género sì a la cultura e la vida no al abismo e la muerte sì a la università della cruz no a la violenza islamista sì a fronteras seguras no a la immigracione masiva sì al trabajo di nostri ciudadanos no a la grande finanza internacional sì a la soberanía de los pueblos no a la burrocrati di Bruxelles è un manifesto no è una volgarità non si dicono queste cose che sono contro natura a partire dall'identità di genere nessuno di noi è confinato in un sesso nessuno di noi è maschio al 100% nessuno di noi è femmina al 100% tutti quanti noi abbiamo una tutti noi maschi abbiamo una controparte femminile e tutte le donne hanno una componente maschile sarebbe interessante che i maschi cominciassero ad avere un rapporto con la loro componente femminile che è l'organo attraverso cui capiscono che cos'è una donna perché se non hanno un rapporto con l'organo che capisce che cos'è una donna non la capiranno mai e sarebbe bello che le donne incominciassero ad avere un rapporto con la loro parte maschile e non si atteggiassero solamente come a espressioni di soddisfazione dei piaceri maschini ecco se tutti quanti entrassimo in questa fluidità non ho paura di dire questa parola sapendo bene che per natura e per psiche nessuno di noi è confinato in un sesso non si rivendica l'identità di genere che sarà comoda per la società che così ha le tabelle ben definite ma è controllatura però lì c'era c'era questo ma c'era anche molto altro che proprio rendeva parte dell'uso dello spagnolo che gli dava una certa aura favoristica rendeva quelle affermazioni che come ha visto hanno suscitato tutti in piedi quello che gli americani chiamano standing ovation un manifesto politico e etico un manifesto etico ora io mi domando in un mondo in subbuglio in rapida trasformazione forse è necessario che qualcuno tenti di fissare dei principi intorno ai quali ci si può agglomerare un consenso consapevole dunque lo stato etico aveva già inaugurato il fascismo no? non a caso non a caso si e l'etica cominciano a realizzare l'etica a livello politico creiamo un'etica politica una politica senza corruzione senza intrallarsi allora cominceremo a credere anche nella politica ma l'etica quando entra nella sfera dell'identità sessuale quando entra nelle camere da letto è un'etica di bassissimo livello è l'etica delle mutande che non serve proprio a niente e significa abbassare il livello dell'etica l'etica è un livello molto più alto di quanto non accadono nelle camere da letto questo va detto con estrema chiarezza quando lo stato etico entra nella definizione di famiglia di identità sessuale sta abbassando il livello dell'etica l'etica è alta è alta riguardo il costume della comunità abbiamo bisogno di moralizzare i valori ma i valori attenzione non sono entità metafisiche che scendono dal cielo e organizzano la società sono dei coefficienti sociali che ogni società adotta perché li ritiene più idoni per ridurre la conflittualità niente di più e niente di meno prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza e di uguaglianza almeno formale sono cambiati tutti i valori e non è finita la storia i valori sono dei prodotti culturali con cui c'è una cultura adotta perché le ritiene più idoni lei ritiene che la nostra cultura sia troppo dissoluta siamo sempre a livello sessuale a fare i ragionamenti è possibile che i peccati sono l'omicidio e la sessualità come è sempre stato per la chiesa e anche lo stato si adega a questo modello no ci sono i modelli di convivenza i modelli di collaborazione i modelli di solidarietà è qui che deve entrare l'etica non a livello sessuale Chiara Saraceno ha detto anche un'altra cosa che vorrei che lei ascoltasse commentasse se avessi uno stipendio da poter mantenere me e la famiglia in un modo decoroso e passarmi anche uno stipendio per le mie spese stare a casa benissimo io ho bisogno di lavorare però se tu fossi in grado di evitare che lavorassi io ne farei volentieri a meno perché? perché ho una famiglia quindi non era una questione emancipazione La continua rievocazione paradossale visto quello che sta succedendo della famiglia naturale non tanto Dio, Patria e Famiglia quanto il fatto che c'è un solo modello di famiglia e tutti gli altri sono devianze o fallimenti corrisponde sicuramente a un discorso ideologico politico anche religioso voglio dire perché non è soltanto l'ideologia politica non hanno nessuna remora del matrimonio come un sacramento come un vincolo che le tenga molto legati si dividono lei può vivere indipendente dal marito perché c'ha anche la sua professione c'è il suo impiego che la rende indipendente e quindi oggi il matrimonio è così è per stare assieme certamente essendo la famiglia un luogo in cui non solo nasciamo ma spendiamo così tanto parte della nostra vita delle nostre affettività vederla come messa in discussione può produrre delle paure non vedo perché stabilire degli schemi o crearsi il problema se vivere con una donna o vivere con un uomo ho provato a vivere con una donna normalmente cioè nel modo eterosessuale nel modo che va bene a tutti e non mi è andata bene personalmente cioè non era il mio equilibrio e non era quello che desideravo nella vita stare dentro stretti alla forma standard di famiglia non corrisponde più né alle leggi né alle forme di regolazione ma soprattutto all'esperienza di molte persone che vivono i ruoli familiari in modo diverso organizzano la loro famiglia in modo diverso oggi in effetti si cerca ma anche perché c'è più confusione si cercano anche altre alternative ed esistono dei rapporti basati unicamente sull'amore amore però in senso lato cioè amore come stima come attrazione fisica come possibilità di creare qualcosa insieme o di lavoro insieme quindi attardarci sul discutere se la famiglia è naturale o no non ci aiuta a capire quali sono le norme e anche i contesti più favorevoli al fatto che le persone si assumano responsabilità duratura l'una verso gli altri abbiano un processo di procreazione se lo desiderano e comunque creino legami duraturi per quanto la vita possa consentire professore Galimberti ci siamo fatti questa lunga galoppata abbiamo visto tante cose epoche formazioni statali modelli che sono andati e venuti oggi stiamo in un momento di chiaramente in cui molte cose sono cambiate molte sono entrate molte sono nuove molte sconcertano sconcertano veramente danno l'idea a molte persone che qualche cosa sia caduto e che questa caduta rappresenta un pericolo un rischio di questo anche dobbiamo tenere conto noi che lei è uno di quelli altro che quelle là lei è un influencer è uno che influenza l'opinione pubblica quindi forse da lei ci si aspetta anche una parola di rassicurazione io che conto molto di meno direi una cosa dobbiamo tenere presente che la famiglia è un valore la famiglia e tante altre cose sono un valore relativo dettato dalle condizioni storico economico politiche che via via si vanno formando e che non bisogna avere paura che le cose cambino e che le famiglie cambino e che i rapporti cambino bisogna soltanto cercare di mantenerli con la cura l'affetto la preparazione dentro i limiti di quella che si chiama comprensione umana educazione sguardo verso l'avvenire lei che dice questa è una definizione perfetta la mia sì questa che ha detto adesso è che me la scrivo è perfetta prendiamo per esempio le coppie che si separano è ovvio che è meglio che si separano piuttosto che litigare continuamente tutti i giorni o non parlarti per mesi però attenzione manteniamo una categoria di fondo un giorno tu hai amato questa donna da cui ti separi si fedele al tuo amore separati con amore è l'amore che dobbiamo mettere in circolazione amore che si configura nella forma di rispetto rispetto di me e del mio sentimento che un giorno sei innamorato di questa donna e allora a questo punto i ragazzi anche se dopo hanno quattro padri quattro mangi e via di seguito se lì il clima è di affettività e di amore crescono bene non è necessario che crescono con due genitori che si detestano o due genitori che non parlano crescono bene ma dobbiamo tenere presente proprio questo la fedeltà è un valore relativo l'amore è un valore assoluto in queste parole l'ateo Garimberti si rivela in realtà sotterraneamente cristiano siamo tutti cristiani perché il cristianesimo non è solo una religione è una cultura ormai ecco una cultura ma questo concetto l'aveva già sviluppato anche la rivoluzione francese quando ho parlato di fraternité cos'è la fraternité? è quel rispetto reciproco quella cura dell'altro quel guardare l'altro non come proprio nemico ma come l'interlocutore dei miei processi sociali questo è l'altro a me quando studiavo tanti anni fa il professore diceva che libertà egalità è facile capire fraternité lui diceva scherzando la fraternité è l'IMPS l'istituto di previdenza sociale cioè non lasciare nessuno abbandonato a se stesso assicurargli dei contributi per la vecchiaia che è un altro modo che non è sbagliato perché lo Stato quando fa l'IMPS crea le condizioni della fraternità il problema è che oggi il welfare viene meno e ritorna ad essere la famiglia l'unico vero sostegno economico di coloro che hanno i problemi la ringrazio tanto professore Calimberti io spero che chi ci ha ascoltato si sia aggiovato delle sue parole come me che seguo anche poi gli scritti di Calimberti per esempio questo libretto per Trinelli di non molte pagine ma di molto succo che si chiama le cose dell'amore e lo richiamo in ballo perché proprio sull'amore come avete sentito il professore ha chiuso questa bella conversazione grazie adesso va in onda un po' di pubblicità noi speriamo che tra un po' ci sarà occasione di rincontrarci va bene in questo studio grazie grazie a lei professor Calimberti nella mansarda dal giorno in cui avevo scoperto di essere incinta non cercavamo altro che una soluzione al rebus del rapporto fra me e il padre di bambina che viveva e lavorava in un'altra città parlavamo 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 naturalmente nessuno di noi aveva mai immaginato di avere un bambino perché eravamo noi i bambini bambini marci persone che non erano state in grado di maturare ma ero io solo io che la notte mi svegliavo se lei si svegliava ero io che restavo sveglia anche mentre dormivo che la stringevo a me incandescente quando aveva la febbre alta ero io che mi ero prosciugata per allattarla almeno i primi tre mesi con il latte che purtroppo avevo a gocce io che avevo sempre avuto il freezer gonfio e il frigorifero vuoto occupato solo dalla sua luce e adesso mentre bambina compiva sei sette nove mesi un anno organizzavo lo scompartimento degli omogenizzati di carne di pesce delle verdure da bollire per il brodo della crema al mais e alla tapioca che odore orribile aveva la tapioca grazie buonasera Chiara Gamberale grazie benvenuta a letto benissimo guardi che spesso gli autori non sanno leggere le loro pagine lei ha letto questo estratto dal suo romanzo che la prego di darmi Chiara Gamberale dimmi di te bella la copertina l'ho scelta lei no come l'ho scelta io e la deve scegliere l'editore ma io sono una persona che tende si chiamano le personalità come me anancastica la conosce questa parola no me la devo far spiegare dal ministro Giulie tende al controllo di tutto insomma l'anancastico quindi io sono un po' così lo vado a controllare bello allora lei si metta comoda lei ha ascoltato la conversazione sì col professor Galimberti noi parlavamo della famiglia di che cosa è stata il modello quando c'era un modello familiare che era bene o male generalizzato tal che chi non lo rispettava era considerato un eccentrico una persona da evitare persone da evitare fino a oggi invece in cui mi dica lei se sbaglio il concetto di famiglia ormai si è sfrangiato in una costellazione di possibilità è così? assolutamente sì è così io in questo romanzo racconto anche questo perché la protagonista è anche protagonista di una famiglia che un tempo sarebbe stata considerata anomala è una mamma single ci sono lei e questa bambina poi nel corso del romanzo si capirà perché sono sole e attraversa uno di quei momenti in cui la vita non le sembra più la sua vita ma si sente più vissuta dalla vita che padrona dei suoi affetti è un momento di smarrimento profondo anche lei la chiama la palude di depressione senza avere paura della parola e ha questa intuizione e perché si sente sbagliata? perché si è trasferita in un quartiere romano è una metafora si chiama il quartiere triste lei lo chiama dove sembra in realtà in realtà il quartiere Trieste però il quartiere triste nel romanzo è proprio un luogo diciamo dello spirito dove lei si sente improvvisamente circondata da famiglie apparentemente tutte uguali c'è questa esperienza che le capita che è successa davvero anche a me fra l'altro di una bambina lei invita una bambina a casa sua a giocare con sua figlia e la bambina insiste dice ma il papà dov'è? ma il papà dov'è? e alla fine interviene la mamma e dice non c'è siamo noi due e lei la bambina le guarda e le dice ma la fate la colazione perché sembrano talmente strane quindi lei che cosa fa la mia protagonista? sentendosi in qualche modo sbagliata un animale grottesco perché dice io sono una madre ma sono anche ancora una ragazza perché non ho un compagno si mette si mette alla ricerca delle persone che mitizzava da ragazza sa quelle persone che noi guardavamo da lontano convinte che sapessero il segreto che a loro venisse facile vivere mentre a noi non veniva facile torna sulle loro tracce ma non attraverso i social va proprio a incontrarle a dire dimmi di te tu come fai a tenere insieme la quotidianità e la passione ma non solo per l'altro per la vita e il batticuore e io credo che questo equilibrio sia fare una famiglia oggi e ognuno le famiglie oggi sono tante lasciamo la risposta definitiva a questa bella domanda alle pagine di questo bel romanzo le offro subito un dato statistico lei deve sapere che secondo i più recenti dati ISTAT sulle tipologie familiari in Italia le famiglie senza nucleo cioè persone sole uomini donne sono il 37 per memorizzare un solo genitore con figli il 10 se lei somma 37 diciamo che arriviamo al 46% quasi la metà degli italiani hanno una condizione familiare di questo tipo di questi due tipi la sapeva sta statistica diciamo che io con i numeri non ho molto confidenza ma con le persone sì guardandomi attorno ascoltandole trovo assolutamente stanti i dibattiti politici che riguardano la famiglia dove stiamo qui a interrogarci il matrimonio sì o no alle persone omosessuali ma di cosa stiamo parlando se la realtà è tanto più variegata tanto più sfaccettata io ho ascoltato con attenzione e anche commozione il professor Galimberti quando poco fa diceva parlava delle separazioni e diceva di sicuro bisogna continuare a voler bene io addirittura il mio ex marito è padrino di mia figlia siamo quindi proprio in dobbiamo solo accettare che tutto questo già c'è attorno a noi e io ho anche delle proposte a partire dalla lingua che poi a me interessa quello io rifletto attraverso le storie attraverso le parole pensi quanto sarebbe forse più consono rispetto anche a questi dati due genitori vanno dal figlio e dicono anziché mamma e papà si devono separare pensi se arrivassero e dicessero si devono trasformare ci vogliamo trasformare ci trasformiamo ormai la durata media si è allungata si è sdoganato il fatto che nelle relazioni ci si sposa con chi si ama un tempo non era così la regola della nonna era quella dice sposa chi non ami e ama chi non sposi e forse siamo soprattutto la mia generazione ma la generazione dal 68 in poi da chi è stato ragazzo dal 68 in poi abbiamo questa eterna adolescenza con cui fare i conti scusi se la interrompo è questa la ragione per la quale tante unioni se posso dire compresa la sua si rompono cioè non è che a un certo punto ci si incontra ci si piace ci si accende ci si sposa non basta perché sposarsi sia con un matrimonio religioso sia con un matrimonio civile vuol dire istituire un legame che ha risvolti affettivi sessuali ma anche giuridici etici di educazione forti complessi perché tante coppie giovani scoppiano io non credo di essere paradigmatica in questo senso perché io ero veramente molto giovane e il mio poi è stato il matrimonio fra due persone molto particolari cioè sia io che il mio ex marito oggi fratello dell'anima siamo persone troppo anche nevrotiche per essere esemplari in qualche modo su questo non ho dubbio però guardandomi intorno certo di sicuro c'è un approccio meno impegnativo col per sempre più spensierato però è anche vero che c'è anche ma gliela butto lì non lo so ci sto riflettendo in alcuni casi forse più idealismo cioè un tempo il matrimonio era anche qualcosa dove dentro poteva esserci anche tutto altre storie d'amore del marito altre storie d'amore della moglie forse alcuni di noi alcuni miei coetanei hanno questo sogno magari questo idealista che credono che dentro un matrimonio ci possa stare dentro tutto è sbagliato è giusto io vorrei uscire da questa distinzione di giusto e di sbagliato nel momento in cui si parla di famiglia e di coppia senza andare nel territorio dei liberi tutti che le assicuro non mi appartiene la ascolto con il più grande interesse adesso però vorrei che insieme ascoltassimo e poi lo commentiamo un'opinione proprio su questo del professor Recalcati che è uno che spesso ci azzecca come si suol dire signora lei è vissuta in una famiglia di 41 persone mi ha detto ma il pranzo per esempio quando siate il pranzo o la cena dove eravate ciascuno in casa sua oppure tutti insieme tutti in un'unica un'unica pignata insomma un'unica tavola e come avveniva allora c'era un'unica tavola lunga c'era dieci uomini e poi le donne tutte dall'altra banda in piedi allora una vicino al tavolo dove c'era la polenta che doveva essere sempre pronta per servire quando chiamavano allora la nonna che era ancora viva si metteva alla tavola delle donne e faceva tutti i piatti poi li portavano tutti gli uomini e poi quel che rimaneva un po' per tutte le donne i bambini così non c'è mai stato un tempo dell'Eden nella famiglia la famiglia comincia con Caino e Abele comincia con l'Oedipo di Sofocle prosegue con Dostoievski dunque diciamo non possiamo rimpiangere un ideale che non è mai stato il legame familiare è sempre qualcosa di molto complesso di molto faticoso ma una volta il grande disagio del legame familiare era nei confronti dell'autoritarismo soprattutto del padre che aveva l'ultima parola su ogni discorso che spiegava cos'era il senso del bene il senso del male del giusto dell'ingiusto e meno male che quella famiglia si è dissolta sotto i colpi della critica del 68 secondo lei la famiglia italiana nel domani resterà come ora o avrà delle trasformazioni? beh io penso anzi spero che avrà delle trasformazioni soprattutto per quanto riguarda la donna che fino adesso è rimasta più una donna casalinga che non inserita nel mondo anche del lavoro ma che sarebbe il marito è sempre il marito ma che è se buconate e l'uomo è sempre l'uomo no? ma che ci può venire in mente la donna? penso che sia anche l'uomo capo di famiglia perché è lui che porta a casa i soldi per andare a fare la spesa è sempre l'uomo che comanda anche che la legge c'è oggi abbiamo un altro genere di problemi cioè la spinta dei genitori a farsi amare la collusione narcisistica con i figli dunque la sindacalizzazione dei genitori che diventano iperprotettivi nei confronti dei figli e poi il fatto che i genitori in realtà non vogliono essere troppo disturbati dalla inquietudine dei loro figli lei ha una figlia? sì e ha età? quasi sette anni è disturbata? mia figlia? mia figlia è estremamente serena come io non ero è una persona io mi ci dedico in una maniera assoluta è un amore assoluto noi siamo da sole anche nella nella realtà anche fuori dalla finzione romanzesca il padre la viene a trovare una volta ogni due settimane ogni due o tre settimane ma vive a Milano siamo noi due sono molto d'accordo con quello che dice il professor Recalcati perché noi siamo passati dal padre padrone al padre piacione che per non vuole essere simpatico al figlio io oggi ringrazio mio padre per quanto mi ha amata anche e soprattutto quando correva il rischio di essermi antipatico di dirmi dei no qual è la terza via quella che secondo me noi che siamo la prima generazione di psicanalizzati dal 68 in poi vi abbiamo tanto chiesto ascoltateci spiegateci le cose voi poverini non lo sapevate fare perché mio padre è della generazione del dopoguerra aveva altre priorità e quindi certo che non ci sapevano spiegare le emozioni noi abbiamo reclamato quella spiegazione adesso dobbiamo essere insomma dobbiamo essere degni genitori di quello che abbiamo reclamato quindi il dialogo è la terza parola perché Recalcati parla di contrasto e va bene per fortuna abbiamo superato quel periodo siamo però nella piena collusione nei genitori che vanno a parlare con i professori prendendo la parte dei figli per me è lunare mio padre andava a liceo a parlare con i professori gli piaceva tanto e quando quelli dicevano è bravissima ma non è vero è solo attenta in classe non hai il libro di testo una volta la professoressa di inglese poi mi disse ma suo padre mi ha detto che lei non ha il libro di testo è vero era vero non ce l'avevo però il dialogo come reagiva suo padre no no mio padre è stato un padre io ho poi ho proprio chiesto attraverso la mia sofferenza sono una delle tante figlie di quella generazione che si è fatta del male pur di pretendere dai genitori il dialogo e l'ho ottenuto sono stati molto intelligenti e bravi nel momento in cui il figlio soffriva alcuni genitori hanno ceduto alla loro incapacità di parlare con i figli e per amore dei figli però i figli dovevano urlarla questa questa sofferenza questo disagio posso fare una domanda personale con la massima buona fede uso di droghe no io sono sempre stata troppo matta di mio mi fanno anche molta paura io avevo io avevo smesso di mangiare ero non cominciò quel fra l'altro era una società molto meno attenta rispetto ai disturbi alimentari anzi non era attenta per niente perché per i nostri genitori che ci avevano dato il pane era incomprensibile che delle persone che avevano i soldi per mangiare scegliessero di non mangiare e i miei genitori hanno ascoltato questo allarme e mio padre oggi dice il tuo dolore ci ha raffinato nelle emozioni non eravamo raffinati nelle emozioni chiedevamo hai tutto hai mangiato hai freddo hai caldo ma non come stai io a mia figlia lo chiedo forse anche troppo mi interessa moltissimo parlare con lei che non vuol dire colludere perché la collusione è ha detto qualcosa di davvero interessante Recalcati alla fine quando dice c'è troppo narcisismo per prenderci carico delle inquietudini dei figli certo e anche quell'altra cosa che Recalcati ha detto che io condivido il padre che si veste come un giovane e fa il ragazzo che va su Facebook accanto ai suoi figli no no il padre è il padre il padre è il padre la madre è la madre sì e il figlio è il figlio ognuno ha il suo posto sì però oggi abbiamo a tutti i costi noi della mia generazione voluto che si potesse parlare e questo è molto importante tant'è che nel viaggio che fa attraverso le famiglie la protagonista del mio libro lei non giudica perché vuole solo imparare il segreto e capirà che dentro ogni casa c'è un segreto c'è un equilibrio no domanda secca e conclusiva secondo lei ha visto all'inizio ho fatto vedere un modello di famiglia col padre cinque figli secondo lei quel modello non c'è più ma è un peccato che si sia perso è inevitabile lei che è così giovane lo rimpiangerebbe non lo so di sicuro non c'è più quel unico modello io credo nelle famiglie dove c'è amore mi piacciono le unioni dove c'è amore e dove c'è armonia dove invece ha detto la stessa cosa dove c'è rancore o disamore io penso che quella famiglia debba trasformarsi sì domanda politica avrebbe venuto in mente mentre diceva queste parole richiamare la famiglia così in astratto come un canone al quale adeguare la società ha un senso? beh se per famiglia intendiamo una cellula un posto dove crescono rispetto per l'altro e la cura per l'altro sì ma solo in questo senso brava Gamberale ha passato l'esame le do 28 si accontenta? no no io li rifacevo sempre se mi davano 28 ho detto che sono anancastica quindi volevo 30 papà mi sgrida se io non porto 30 perché era quella generazione di padri ci rivedremo in primavera ci riproviamo anche la lode adesso tra un po' torno vado a leggere una cosa là e torno grazie allora volevo leggere qualche riga da Lessico Familiare di Natalia Ginzburg che è un grande romanzo del 1963 che parla proprio di questo sfiora molti argomenti che abbiamo trattato in questo programma e dice noi siamo cinque fratelli abitiamo in città diverse alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti ma basta fra noi una parola basta una parola una frase una di quelle frasi antiche sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia ci basta dire non siamo venuti a Bergamo per fare campagna o de cosa spussa l'acido cloridrico per ritrovare un tratto ai nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi a quelle parole ecco sia Galimberti che la signora Gamberale hanno insistito sulla riconoscimento attraverso l'amore all'interno di una famiglia Natalia Gainsbourg aggiunge un connotato importantissimo il riconoscimento attraverso l'uso di parole che evochi affetti abitudini vicinanza consumati nel tempo e rimasti per sempre impressi nella mente alla prossima attraverso attraverso attraverso